Ciao a tutti, benvenuti sul canale Muay Kai Nak Muay Stories. Ned Sak Narong è il protagonista di questo breve video. Nasce il 6 novembre 1955 in Thailandia ed inizia il suo percorso di Nak Muay a 14 anni, vincendo il suo primo match. È stato un forte mancino, con un potente gancio sinistro e degli otto di middle kick, ed è stato a lungo il numero uno dell'Uppini Stadium e della Jadawan Stadium, senza però mai riuscire a vincere il titolo. Combatteva nella categoria 130 libri e sicuramente si può dire che il suo anno migliore è stato il 1976, dove ha battuto campioni come Pulpa Noi, Vici Noi, Pudla Olek e tanti altri forti combattenti. Combatte anche all'estero contro avversari di disciplina diversa, tipo kickboxing e full contact. È stato uno dei primi tailandesi a combattere contro avversari stranieri. Nel 1977 batte il campione del mondo di full contact Ernest Hart per KO. Combatterà anche in Europa e nel 1988 farà un match in Francia e vincerà per KO ed ed è lì si stabilirà appunto in Francia e svolgerà l'attività di allenatore, allenando tanti forti futuri campioni. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, condividetelo, mettete mi piace e al prossimo video. Ciao a tutti! Ciao a tutti!